Il patrimonio all'Archivio di Stato, dedicato quest'anno anche ai bambini? Allora, poiché il tema di quest'anno delle giornate europee del patrimonio è appunto patrimonio culturale tutti inclusi, l'Archivio di Stato di Salerno effettuerà tre aperture straordinarie a partire da sabato 25 settembre alle 16.30 fino alle 20.30 e poi due altre aperture domenica 26 dalle 9 alle 13, dalle 16.30 alle 20.30 nel corso delle quali sarà possibile visitare la mostra di libri d'artista e di editoria per l'infanzia a cura di Antonio Baglivo e di Vito Pinto che vuole appunto seguendo il tema di quest'anno delle giornate europee del patrimonio aprire l'istituto ad un pubblico diverso da quello che abitualmente frequenta l'Archivio di Stato per esigenze di ricerche storiche oppure ricerche amministrative. È un pubblico appunto che riguarda adolescenza, l'infanzia e quindi è un percorso che vuole essere aperto anche alle istituzioni scolastiche. Il tema della mostra è appunto permettere di conoscere un aspetto non solo letterario ma anche iconografico della letteratura dell'infanzia per cui direi che quest'anno l'Archivio di Stato credo che abbia risposto in pieno al tema che ha immaginato il Consiglio d'Europa per le giornate europee del patrimonio. Per l'occasione sarà aperta anche la cappella di San Lodovico? La cappella di San Lodovico fa parte ovviamente del percorso museale dell'Archivio di Stato e negli orari di apertura straordinaria anche la cappella sarà visitabile agli utenti. Giornate europee del patrimonio a Santa Maria dell'Amos Salerno, di che si tratta l'iniziativa dell'empatismo ed eventualmente l'integrazione oppure la correlazione con la scuola medica salernitana? Allora, il movimento empatico nasce circa due anni fa. Abbiamo prima fondato delle entità culturali, delle nuove identità culturali in provincia di Salerno che è Omignano, paese degli aforismi, Salento, paese della poesia, che chiude un ideale triangolo culturale con Vallo della Lucania, sede del centro contemporaneo delle arti, che è una nuova fucina di idee e di iniziative culturali, ma mai fine a se stesse. Quindi con il tempo abbiamo lanciato un nuovo manifesto, un manifesto che è stato presentato dapprima nel Cilento, poi a Firenze presso le Giubberosse, alla Central Library di Edimburgo e all'Accademia di Belle Arti di Brera. A questo manifesto hanno aderito molti dei maggiori intellettuali, artisti, filosofi, uomini di cultura d'Italia e internazionali anche. Abbiamo anche pubblicato una prima antologia, che è questa, pubblicata dalla Dolphi nel 2020, dove vengono racchiusi i temi emotivi dominanti che presentano appunto il movimento. L'empatia, oggi si parla molto di empatia, e quindi noi abbiamo sentito la necessità di riunire nuovamente gli artisti. In un periodo storico dove l'altro è solo un non io, c'è questa difficoltà di sentirsi parte di un intero, noi abbiamo cercato di ritrovare l'altro attraverso le emozioni, attraverso il sentimento, perché ci sembra l'unica via per opporsi alla società tecnocratica, illuminista per così dire, che sembra aver fallito. D'Annunzio diceva, ridateci il sogno, la scienza ci ha ingannati. Noi ci rifacciamo a questo, vogliamo di nuovo coltivare le emozioni, i sentimenti, perché sono alla base, sono alla base della crescita individuale e soggettiva, no? Anche a scuola infatti si parla adesso di empatia, perché rimanda appunto a questa costruzione necessaria dell'io, ma un io che sa integrarsi anche con l'altro. Scuola Eleatica e Scuola Medica Salernitana, qual è la relazione tra le due scuole? Beh, abbiamo, essendoci sul territorio, queste due grandi scuole che intrinsecamente hanno una matrice empatica, anche loro, la medicina è empatica in sé, è così la filosofia. Quindi quest'oggi, partendo dalla tradizione, arriviamo all'innovazione. Quindi si è creato questo nuovo triangolo, chiaramente le due grandi scuole sono guardate da noi con ammirazione, cercando di ripercorrerne le grandi gesta e di essere ugualmente apprezzati dalla storia, così come sono state ampiamente apprezzate queste due entità culturali. Ricordiamo l'appuntamento a Santa Maria dei Lama? L'appuntamento prevede una mostra di poesia visiva. Sono 30 tele che io ho scritto, tra virgolette, dipinto qualche anno fa e si tratta appunto dell'esposizione della grafia, riguardare nuovamente la bellezza della scrittura, per così dire, in un mondo dove si parla solo digitale e chiaramente poi c'è tutto il valore ipotetico dei componimenti. Quindi la poesia che esce dal libro e si mette in bella mostra sulle tele.